3, 2, 1 Chiudere qua Ok Si Bon Possiamo andare Ok Va fai strada te Si si Tanto sai dov'è Si si abbastanza Bon vai vai Magari accendi anche i lampeggianti Non è una brutta idea Sai com'è Si ma si tanto Eh Oh Stare attento Qua vuole la trincia Con solo la barra Perché guarda Prendo dentro da qualche parte Eh già ci arrivo quasi io Con il trattore E qua infatti ci passo a filo Allora proprio ci passo a filo qua Ah qua anch'io Beh ci passo a filo io A te sei un po' più stretto Si no ma su in alto Mi stanno strisciando i rami Ah beh su si Ok qua Posso andare un po' più tranquillo Sto un po' più su sinistra Eh la fin sembra che è già arrivato qualcuno Credo che sia Guido Ah è il signore lì Si c'è anche lui C'è anche lui Darci una mano Ah Io non l'ho mai sentito Questo signore E qua Ambita anche lui qua Stappe ma Ah Sempre qua in centro In centro? Sei lì dove c'è la fontana Si Ecco lì Ah lì Ecco la sua farm Si Io vedevo ogni tanto Lì un fan 300 Che girava Eh si è il suo Ah ok Eh magari partiamo da qua Visto che siamo qua no? Si ma non andiamo a parlare col signore Eh fallo venire qua Se vengo fin lì con la trincia Per poi tornare indietro Sì sì Anzi la lascio qua un attimo Vengo lì a piedi Chi sei tu? Vabbè Vabbè Eh guardi Ecco Buongiorno Guido Ah ciao Ah bene te Bene bene Eh questo qua è l'ultimo per l'hai arrivato È un po' fuori di testa Ah ho visto arrivare ho detto Questo Sì questo è Simone Ma chiamalo pure Pirla Oh Pirla a chi? Ah ma comunque Salve Piacere 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 Eh complimenti bel trattore Eh avete Due gemelli eh Vabbè Vabbè Se volete iniziamo Eh io ti raggiungo adesso Dovrebbero arrivare anche gli altri Adesso Il campo è questo qua Ok Bene Boh La trincia l'è in fondo Quindi Faccio una corsetta Dai Ok Eh quanto vai Manu? Eh adesso vediamo dieci Poi se riusciamo andiamo di più Ok eh Stammi dietro Sì sì Eh occhio qua l'albero Eh allora Il lavoro ce n'è da fare Tanto Abbastanza Lo sai anche così pieno Sì 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 Stimo sta pronto lì dietro Sì sì Vai vai Aspetta fammi fare manovra Sì sì Vai 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 Andiamo su di qua eh Sì 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 Eh sai che è buco no Dovremmo cambiarlo Per strada ho visto quando ritornavo dalla prince ho visto che c'erano un paio di mucchietti Eh però Ancora Perde ancora Eh Lora sta riparazione non è che tiene tanto Eh no è una lastra saldata lì Non tiene più di tanto però Magari dopo Ci metto io ci metto io con con graspa lì Eh Riuscite a farci qualcosa perché sennò lì perdiamo sempre un mochi di roba Eh metà di metà delle raccolte ci butto io Eh metà no ma quasi Ma qua vedo che comunque come resa non siamo messi male No ci siamo ci siamo Scusa è già il quarto carro questo Eh Quindi Niente male direi Mi sono già quasi pieno ormai Eh vedo Però fa un casino sta trincia Sì guarda Fortuna qua dentro un po' insonorizzato ma Non pieno Ok Adesso viene sotto lui A girarsi indietro con sta trincia da stare attenti perché fa anche i 360 Ma Ma lui hai dato il CB al signore Eh sì mi sembra di averglielo dato Pierguido Pierguido Boh Mi sembrava di averglielo dato Pierguido Pierguido Ah eccolo Ah ok Non l'avevo acceso Ah Come va rende rende Sì sì eh Sì sta andando molto bene Già riempito quattro rimorchi direi di sì Vabbè Molto bene Passa 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 Invece a pestare come este Come sei messo lì No si va bene si va bene Va bene il Charlie Ah si Eh Eh La lama potrebbe far di meglio però Quale hai preso alla fine Eh mi ha dato la cc Quella della cc Ah Quella lì Cioè è bella Però Forse un po' piccolina Per il Charlie si è un po' piccola Eh ma in generale non è che Tiene tanto Boh Però dai Eh potevi anche prendere l'altra più grossa Sì sì L'altra era è più troppo grande Eh Almeno su questo trattore qui non è che ci spesse molto bene Va un po' più indietro Ok Bene così Allora andiamo giù di qua Dove vai Facciamo il giro così andiamo su dalla parte di là Poi Challenger va bene a quest'area perché è pesante Fai cingoli larghi Eh si Soprattutto molto potente quindi non ha problemi a spinger su Ah si Spinger su la roba Ma non sto guardando indietro e il pistone del sollevamento del carro Ha una perdita Pure Adesso mi fermo un attimo qua Sono quasi pieno eh Ah non hai gli attrezzi dentro al capannone delle trebbie Eh dovrebbe esserci qualcosa ok Già pieno anche questo Ok io sono fermo Ah Cristian vieni vieni Ok Ok Andiamo Ok Grazie a tutti.